8 cose da fare assolutamente quando si è in Veneto Come primissima cosa bisogna farsi l'assicurazione sul fegato Conoscere il Rumatera Fidatevi, non ve ne pentirete Andare in Mona Perderci il palcaigo almeno una volta Mangiare pointa pane soppressa con un bel bicchiere di vino buono fatto da noi Vedere le Alpi e tutte le bellezze sia visive che culturali che ci sono qui Andare a Gardaland Andare a Venezia a bere lo spritz Facendo baccarotour dalle 8 di mattina Tirando almeno un citeraio di por... Volevo dire di Gesboro allora Gesboro